Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti a questo webinar di Overland Thunberg. Io sono Luca Boaro, per chi non mi conosce già, Product Manager per Alias per i prodotti afferenti alla categoria della Business Continuity, tra cui anche il Backup e lo Storage, quindi anche Overland Thunberg con le sue soluzioni a nastro, LTO e a disco RTX. Il webinar di oggi è improntato sull'integrazione delle soluzioni RDX con gli apparati NAS e in che modo questa soluzione vi aiuta nella conformità del paradigma 3.2.1 per il Backup Sicuro. Per chi non dovesse già conoscerlo, Overland Thunberg è il leader mondiale per le soluzioni backup su supporti rimovibili ed oggi con noi c'è direttamente Paolo Rossi, che ne è il Channel Manager per l'Italia e sarà anche relatore di questo webinar. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Venendo al webinar, vi anticipo che è strutturato con una prima introduzione al marchio, a cui seguirà una introduzione sulla tecnologia RDX e successivamente entreremo nel dettaglio sull'integrazione di queste con le soluzioni NAS. Prenderemo in esame, nello specifico, un NAS della QNAP e uno della Synology e vedremo come operare per eseguire un backup ridondato che è possibile poi trasportare off-site. A fine webinar poi vi invieremo le mail con le promozioni inerenti alle soluzioni RDX a voi riservate in quanto partecipanti a questo webinar. Inoltre, qualora aveste bisogno di approfondimenti one to one, siamo assolutamente disponibili e vi lasceremo i nostri riferimenti anche nella mail. Il webinar verrà altresì pubblicato sui nostri canali, pertanto nel caso aveste bisogno di riconsultarlo, nel giro di qualche giorno dovrebbe essere fruibile pubblicamente. Passo la parola a Paolo Rossi, Channel Manager di Overland Handberg. Grazie Luca, grazie a tutti della partecipazione. Bene, io ho deciso appunto di creare una piccola agenda appunto con cui iniziare questo webinar. Innanzitutto per darvi indicazione velocemente di chi è Overland Handberg, cos'è la tecnologia RDX, la regola del 321 menzionata poco fa appunto da Luca e appunto l'integrazione con i NAS che è la parte un po' più interessante, la parte diciamo un po' più di integrazione e di configurazione. E poi terremo le domande e le risposte appunto per la parte finale, quindi se volete potete sfruttare il pannello appunto della chat per inviare le vostre domande. Quindi chi è Overland Handberg? Overland Handberg sostanzialmente è la fusione di due società, Overland Storage, azienda americana, e Thumber Data, azienda tedesca. Il titolo della slide è Overland Handberg, una storia su cui continuare a puntare, perché entrambe le aziende sono storiche nel mondo IT, Overland Storage nasce nel 1980, e mentre Thumber Data, azienda tedesca, ufficialmente nasce nel 1979, da appunto una costola della Thumber Radio Fabric, azienda norvegese, che appunto sviluppava soluzioni di registrazione audio su nastro e anche riproduttori audio appunto sempre su nastro. La appunto tecnologia di cui vi parliamo oggi e che si integra perfettamente con le soluzioni NAS, ma non solo, è la tecnologia RDX. Che cos'è la tecnologia RDX? Sostanzialmente è la combinazione di due tecnologie, ovvero il meglio del tape e il meglio del disco. Il meglio del tape perché abbiamo un supporto che è rimovibile, portabile, trasportabile, di lunga durata, robusto e di basso costo. Il meglio del disco perché all'interno di questa cartuccia, così come sono formati i tape, non c'è più un nastro, ma c'è un hard disk, un hard disk da due pollici e mezzo, quindi sfrutta tutti i benefici di quello che è il disco, quindi random access performance, transfer rate molto veloci e affidabilità appunto del dato. RDX è uno standard, lo standard per i dischi rimovibili e per ogni tipologia di applicazione storage dove richiesta la protezione, la rimovibilità, il trasporto di informazione e i dati aziendali. È una soluzione di archiviazione rimovibile con prezzi accessibili per le piccole e medie imprese e per gli small office e home office, ma anche per aziende un po' più strutturate, quindi imprese magari distribuite con diversi branch office. È semplice, facile da managgiare e sicuro e soddisfatta gli standard di conformità per il backup, il ripristino, l'archiviazione e lo scambio dei dati. È uno standard dal 2006 e ad oggi oltre 900.000 aziende in tutto il mondo stanno utilizzando la tecnologia RDX. Abbiamo spedito nel mondo fino ad oggi più di 4 milioni di supporti e una capacità totale di 1.6 exabyte, quindi una capacità estremamente ampia. Le maggiori applicazioni della tecnologia, non sto ad elencarvele una per una, ma sono sostanzialmente quelle di storage, backup e archiviazione. Il portafoglio dei prodotti è ampio, vediamo prima le soluzioni Quickstore, quindi le soluzioni singole, quindi a drive singolo. In alto vedete le due soluzioni interne da 3,5 e 5 e 25, che possono essere integrati in PC, server e black box, qualsiasi possibile applicazione diciamo che permetta di ospitare questi due tagli di prodotti, con interfaccia SATA 3 e con interfaccia USB 3. Ovviamente per SATA 3 ci sono necessari alcuni accorgimenti dal punto di vista dell'infrastruttura, mentre per USB 3 è molto più semplice l'integrazione. In basso vedete il drive invece esterno USB 3, di cui parleremo quest'oggi, anche perché l'integrazione è molto più semplice con le soluzioni NAS. Al centro le soluzioni Quickstation, quindi soluzioni in questo caso non più USB o SATA 3, ma di rete, che si configurano in ice case, quindi come target ice case. E poi a destra, nell'ultimo riquadro, trovate i media, quindi le varie tipologie, i vari tagli di capacità e poi alcuni accessori. Ho parlato di media, quindi RDX media, e la capacità è scalabile, per cui partiamo dai 500 giga, passando per 1, 2, 3, 4 e 5 tera. E la garanzia è di 3 anni con sostituzione anticipata, questo vuol dire che siamo noi, direttamente come Overland Thunberg, a gestire la sostituzione. Quindi aprite un ticket, piuttosto che una mail, una telefonata, al nostro supporto tecnico, e vi viene inviato in anticipo il prodotto sostitutivo. Quindi va da sé che abbiamo appunto un servizio che molti ci riconoscono, essere totalmente a supporto dei nostri partner, sia noi sia i rivenditori, ma anche utenti finali, perché ovviamente questo servizio è disponibile per entrambi. Protezione dell'investimento e nessuna migrazione dei dati, perché ovviamente c'è completa compatibilità con il passato e il futuro, infatti vedete anche negli esempi poi che ho fatto, ho utilizzato un driver RDX USB 3 Plus, quindi una delle più recenti soluzioni, con una cartuccia da 160 giga, che è una cartuccia ormai datata del 2010, se non ricordo male. Quindi comunque c'è questa compatibilità tra passato e futuro, e viceversa tra media e drive. Qualità, affidabilità e prestazioni, quindi la soluzione è resistente alle cadute, agli shock, ha una protezione statica, è tollerante all'ambiente, umidità, polvere, ovviamente temperature, e isolata dalle vibrazioni per massimizzare le prestazioni. La regola del 3-2-1, ne abbiamo parlato prima nell'agenda, sostanzialmente partendo da un po' da quello che è stato il passato, da quello che era il metodo this-to-this-to-tape, che ancora oggi, in buona parte devo dire la verità, effettivamente è utilizzato, lo dice in questo report, anche Gartner, anche se è un report del 2017, è comunque un qualcosa di recente, e anche noi lo vediamo un po' nelle vendite dei prodotti, perché comunque siamo produttori di soluzioni tape. Poi siamo passati al disk-to-disk-to-disk, quindi con diverse copie dei dati su disco, fino ad arrivare al disk-to-disk-to-rdx, che è quello che ci permette, diciamo, di adempiere in maniera fedele a quella che è la regola del 3-2-1. Regola del 3-2-1 che ci dice che dobbiamo avere tre copie dei dati, una primaria e due di backup, queste due di backup archiviate su due supporti diversi, e una di questi archiviata in off-site, quindi portata fuori, e dico anche in offline, perché? E perché ve lo spiego in maniera più dettagliata nelle prossime slide. L'integrazione con i NAS, diciamo innanzitutto che le soluzioni RDX nascono per essere integrati con server, con PC, e con l'avvento sempre più imponente delle soluzioni NAS, ovviamente ci siamo integrati anche con queste soluzioni. I NAS vengono ampiamente utilizzati negli ambienti delle piccole e medie imprese, è diventato un dispositivo standard per molteplici utilizzi, soprattutto ovviamente storage, quindi come memoria centrale, come file server, per applicazioni server, come backup server, ma anche come server di virtualizzazione, molti di voi sicuramente lo stanno utilizzando in questo modo, media server e music server, magari per utilizzo più domestici, però ci sono aziende che lavorando in questi campi lo utilizzano anche in questa modalità. Il backup dei NAS è spesso ignorato, dobbiamo dire la verità, perché ci fidiamo della protezione RAID, ma RAID non nasce come soluzione di backup, è sostanzialmente una protezione del dato, ma non come backup. Il RAID ovviamente non ci protegge dai crash di sistema, dai disastri, dagli aeronomani, dagli attacchi virus, dai ransomware, dai furti e dagli incendi. Perché ho detto prima del backup da portare in off-site, ma soprattutto in offline? Perché è cambiato l'approccio e deve cambiare anche l'approccio di protezione dei dati, perché siamo passati da una protezione contro la perdita dei dati alla protezione dalla criptografia dei dati. Immagino che molti di voi o molti dei vostri clienti abbiano avuto dei danni da ransomware, da criptolocker negli ultimi anni. E devo dire la verità che effettivamente molti partner che avevano utilizzato le nostre tecnologie in anticipo appunto sono rimasti ovviamente soddisfatti, perché le soluzioni RAID X ci permettono di salvaguardare il bene più prezioso dell'azienda, ovvero appunto i dati. Possiamo sfruttare per l'integrazione delle nostre soluzioni RAID X con i NAS le applicazioni integrate. I maggiori vendor ovviamente offrono delle applicazioni all'interno del loro sistema operativo e possiamo sfruttare la connettività USB con gli RAID X QuickStore oppure la connettività SATA 3. Perché? Perché vi dico che una soluzione di QNAP permette di integrare direttamente una delle nostre soluzioni SATA 3 direttamente nel NAS e poi ve lo farò vedere in un'immagine. Abbiamo la connettività ISCASI, quindi rete con le nostre QuickStation perché QNAP permette di essere ISCASI initiator, quindi di creare il target verso le nostre soluzioni QuickStation, quindi avere una QuickStation 4 e una QuickStation 8 con 4 o 8 target diversi e poi supporto alla rotazione dei media per l'archiviazione off-site e qui molti ovviamente la supportano. Quello che consigliamo noi come rotazione dei media ARDX ovviamente è quello di utilizzare almeno tre cartucce per il backup. Perché? Perché una cartuccia è in ufficio pronta per il prossimo job di backup, una cartuccia è in off-site, nel luogo sicuro, che può essere la casa dell'imprenditore piuttosto che una sede secondaria, un ufficio, la banca e una cartuccia invece è in transito da o per il luogo sicuro off-site. Quindi abbiamo queste tre cartucce che facciamo ruotare in maniera perfetta. Ora passiamo all'integrazione con i NAS QNAP e vi faccio vedere come funziona. Ho creato degli screenshot appunto dell'integrazione, ma prima di questo vi faccio vedere quello che mi hanno mandato alcuni partner. Qui vedete un NAS QNAP con un drive ARDX e la sua cartuccia da 500 GB, quindi a backup di un NAS QNAP. A destra è la soluzione di cui vi parlavo. Vedete il NAS QNAP che permette di alloggiare all'interno appunto un drive SATA 3, quindi un drive interno, direttamente nello slot del NAS. Vi posso dire appunto che l'integrazione tra le due aziende è totale e i nostri ingegneri parlano giornalmente anche con quelli di QNAP. Infatti stiamo sviluppando anche un'altra soluzione insieme a loro. Quindi andiamo alla presentazione, all'integrazione delle due soluzioni. Qui mi spiace solamente una cosa perché abbiamo utilizzato l'applicazione Backup Station, ma parlando appunto questa mattina con Francesco Camillucci di QNAP, che molti di voi magari sicuramente conosceranno se sono utilizzatori delle soluzioni QNAP, mi diceva appunto essere un'applicazione ormai fra virgolette vecchia, nel senso che non è più utilizzata perché è stata sostituita da Hybrid Backup Sync. Questa è colpa mia perché non ho aggiornato all'ultimo firmo il NAS che mi avevano appunto inviato per fare alcuni test. Detto questo lui mi ha confermato che comunque ci sono le medesime funzionalità, se non qualcosa di più, ma l'integrazione funziona e ce lo possono confermare anche alcuni diversi rivenditori che già utilizzano le soluzioni. Vedi appunto le impostazioni dello storage esterno, qui noi possiamo andare a formatare la nostra cartuccia collegata ovviamente attraverso il driver DX al NAS, in questo caso facciamo format, possiamo andare a selezionare il file system che prediligiamo, da NTFS a X-T4, 3, F32, HFS Plus e via dicendo. Un consiglio, in termini di performance ovviamente è meglio utilizzare X-T4, se vogliamo maggiore flessibilità NTFS perché ovviamente potremmo collegare quella cartuccia ad un altro driver DX magari connesso ad un server o ad un PC eccetera eccetera e recuperare comunque i nostri dati in maniera molto più semplice e flessibile. Quindi selezioniamo, noi selezioniamo X-T4, possiamo andare anche a creare appunto, ad abilitare la crittografia in base ovviamente al grado ovviamente di protezione che vogliamo e questo è il NAS QNAP che si occupa di crittografare i dati prima di scriverli sulla cartuccia. Clicchiamo format e ovviamente il device viene formattato correttamente e visualizzato all'interno della management. Dopodiché noi possiamo anche attraverso appunto questa pagina andare a fare l'espulsione della cartuccia e ci dice appunto, attenzione, che se facciamo l'espulsione e c'è un qualche servizio attivo si potrebbero perdere i dati, ma comunque in questa cosa ho solo fatto appunto questa slide per dirvi appunto come gestire la cosa. Andiamo su Backup Station, vi ho detto Hybrid Backup Sync è la nuova versione ma non cambia molto, andiamo a creare il nostro job di backup. Andiamo avanti con la configurazione, vi dicevo prima questa è una cartuccia da 160 GB che uso per fare le prove, possiamo ovviamente decidere quali file, quali cartelle scrivere all'interno appunto della nostra cartuccia, magari ci mettiamo i dati critici in un database o quant'altro. Andiamo a selezionare la programmazione, quindi possiamo dire periodica, oraria, giornaliera, eccetera eccetera. Io l'ho messo in Auto Backup e dopo vi spiego il motivo e poi vado anche ad abilitare appunto l'espulsione automatica del drive al termine appunto del backup. Vado avanti, normalmente altre possibili configurazioni, altri possibili filtri, vado a creare appunto un nome per il mio job, manteniamo quello di default che viene dato dal sistema e andiamo su fine. Il mio backup viene così parte e una volta terminato la mia cartuccia viene espulsa dal sistema. Quindi è il NAS che dà l'input al driver IDX di esplendere la cartuccia. In questo modo ovviamente qui abbiamo lo status e il log di quello che abbiamo fatto e ci dà appunto termine e completato. Vi dicevo prima, ho messo Auto Backup perché? Perché in questa modalità ogni volta che voi inserite la cartuccia all'interno del driver IDX parte in automatico il backup. Quindi una volta che viene riconosciuta dal sistema, parte il backup in automatico sulla cartuccia al termine del backup viene espulsa. Quindi anche in situazioni di piccole e medie imprese dove non c'è personality esperto e vogliamo fare questo lavoro all'impiegata piuttosto che al titolare che poi si prenderà la cartuccia al termine del backup non dovrà fare altro che inserirlo all'interno del driver, partirà il backup in automatico e poi avremo ovviamente un backup finito e pronto. Dopodiché mi sono addentrato a creare ovviamente un'altra cartuccia, un'altra cartuccia, pardon scusate, un'altra cartuccia IDX sono andato a creare un altro job di backup che ha ovviamente funzionato per backupare un'altra cartella del NAS e una cosa che vi consiglio è sicuramente quella di abilitare gli alert quindi inviare una mail in caso sia quando ovviamente il backup è fallito ma magari anche quando è stato completato così possiamo dare comunicazione all'impiegata piuttosto che al titolare a chi è stato ovviamente incaricato di controllare il job appunto di che appunto è finito il backup tutto lo stesso che è fallito. Io poi ho creato un'ulteriore cartuccia e ho appunto effettuato un backup schedulato quindi ho impostato un backup schedulato e quindi è un'altra possibile configurazione. Per quanto riguarda la parte QNAP ho terminato prendo la presentazione con la parte Synology dovreste vederla vado avanti questa è un'altra possibile integrazione inviata appunto da un collega che utilizza il Synology con delle cartucce RDX da un tera in questo caso quindi come viene vista dalla management del Synology ovviamente anche in questo caso come un disco USB VMI riconosce che è un RDX perché ovviamente è stata come dicevo prima inserita alcune app di gestione vado nel Share Folder quindi a fare la mia prima configurazione vado ovviamente a cambiare il nome della Share da USB Share gli posso indicare un qualsiasi altro nome noi abbiamo scritto RDX Drive 1 perché ovviamente nulla mi vieta di avere più drive collegati allo stesso NAS magari vogliamo utilizzare applicazioni diverse o vogliamo backupare parti diverse del NAS o non ci basta la capienza possiamo fare diverse cose quindi una volta fatto questo io posso anche andare a abilitare la crittografia sulla cartuccia anche in questo caso è il NAS che va a gestirmi la crittografia vado poi su device esterni e vado a formatare la mia cartuccia quindi anche in questo caso posso selezionare la tipologia di file system meno possibilità ma comunque quelle che ci servono quindi XT4 che ci permette di massimizzare le prestazioni mi chiede appunto se voglio andare a fare la formatazione gli dico sì e dopo di che vado sull'applicazione Hyper Backup che non trovate di default all'interno della management ma che dovete scaricare e installare è gratuita ed è compresa tra le applicazioni madre di Synology vado all'interno di Hyper Backup quindi nella configurazione vado su local folder USB creo il mio job di backup seleziono ovviamente le cartelle che mi servono qui abbiamo RDX Test e vado appunto a selezionare rimuovi la destinazione esterna al termine del mio backup quindi quando il mio backup è finito poi potrei abilitare anche la schedulazione piuttosto che il check data il check sum e via dicendo lo abilito ovviamente vado ad abilitare anche la rotazione del backup così posso utilizzare anche diverse cartucce mi chiede se voglio fare il backup ovviamente dico sì parte il mio backup quindi lo vedete qua online la mia cartuccia al termine del backup la cartuccia viene messa in offline quindi mi comunica ovviamente il successo dell'operazione e dopo di che la cartuccia viene espulsa dal sistema quindi fisicamente viene espulsa dal sistema anche per quanto riguarda Synology è molto molto semplice la parte di configurazione vado a prendermi a riportarmi sulla presentazione principale perché volevo dirvi ancora alcune cose vado alla questa slide qui abbiamo ho inserito questa slide giusto per ricordarmi appunto che l'integrazione con Buffalo è in progress quindi è in fase di sviluppo nel senso che da circa un mesetto hanno deciso di integrare la possibilità di gestire le soluzioni RDX di Overland Tammer all'interno del loro NAS quindi nel loro sistema operativo ci sarà ovviamente l'espulsione automatizzata stanno inserendo ancora qualcosa di interessante e poi vedremo cosa cosa ci sarà credo che nei prossimi mesi ovviamente sarà realtà questa è stata ovviamente spinta ovviamente dai dai colleghi ovviamente di Buffalo che hanno visto in RDX una soluzione attendibile per integrare il backup e avere una copia off-site e offline delle soluzioni dopodiché passiamo alla slide successiva perché che l'ho inserita giusto per ricordarmi alcune cose da dire perché vi posso dire che è possibile integrare le soluzioni RDX anche in NAS con sistemi operativi Linux l'unico accorgimento che dobbiamo fare è quello di cambiare la modalità di funzionamento dei driver RDX da modalità standard ovvero disco rimovibile a modalità fissa ovvero a modalità disco fisso in questo modo i sistemi operativi Linux mi vedono l'RDX non più come disco rimovibile ma come disco fisso e in questo caso è possibile renderla target di backup quindi o repository per i nostri backup questo succede anche con server Linux quindi in questa modalità io posso agganciarli ovviamente ai server Linux ho un'unica differenza rispetto alle configurazioni e le integrazioni con app e sinology perché non posso fare diciamo l'espulsione automatizzata della cartuccia al termine del backup ma devo farlo io in maniera manuale quindi andando a cliccare sul bottoncino che trovate sul drive RDX in questo modo ovviamente possiamo far gestire comunque l'espulsione del media e metterlo in offline cosa interessante in questa modalità si può anche integrare RDX in modalità disco fisso con Windows backup perché Windows ha tolto il supporto ai dischi rimovibili come target di backup e invece in questa modalità RDX torna ad essere target possibile per i backup di Windows non so se qualcuno interessava comunque c'è anche questa possibilità aggiungo anche che per cambiare la modalità RDX in modalità rimovibile a RDX in modalità disco fisso non dovete fare altro che scaricare dal nostro sito RDX Manager nostra applicazione sia per Windows che per Mac e appunto andare a fare questo cambio di modalità si stanno veramente 30 secondi per fare questo cambio ho accennato della modalità disco rimovibile e disco fisso con l'applicazione per Mac infatti le soluzioni RDX sono anche di possibile utilizzo con Time Machine quindi anche in Time Machine avete la possibilità di utilizzare RDX come target per i backup detto questo non mi resta che chiudere il webinar in questa ultima slide trovate tutti i miei riferimenti quindi se avete bisogno di ulteriori informazioni sull'integrazione o maggiori dubbi che vi possono essere sorti con questo mio webinar e intervento non dovete fare altro che scrivermi una mail contattarmi al cellulare piuttosto che attraverso i social network il webinar verrà registrato e pubblicato sulla pagina di Alias ma anche su quelle di Overland Thunberg e vi invito a mettere un mi piace alla nostra pagina Overland Thunberg su Facebook lì troverete ovviamente poi il rilancio del webinar insieme ai colleghi di Alias vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi do appuntamento sicuramente al prossimo webinar insieme ai colleghi di Alias buona giornata e buon lavoro per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione